Acquisivano società in perdita gonfiando nei bilanci e facendo assunzioni fittizie per ottenere prestiti in favori dei dipendenti, i cui proventi venivano poi reimpiegati anche per attività di usura. Una struttura ramificata, capeggiata dalla famiglia Rom De Rosa, che si avvaleva di un consulente economico, anche egli a capo dell'organizzazione, è stata smantellata nell'operazione portata a termine dalla procura di Sulmona e dai carabinieri Peligni, assieme a quelli di Montesilvano Chieti Avezzano e Castel di Sangro. Questa mattina infatti sono scattati gli arresti su ordine del GIP del Tribunale di Sulmona per 9 dei 20 indagati, 6 in carcere e 3 ai domiciliari. Parallelamente c'è stato il sequestro preventivo di una villa di 15 vanni e 4 terreni a Rocca Casale, in provincia dell'Aquila, per un valore di oltre 500 mila euro. Il gruppo criminale si avvaleva anche di un consulente che era poi l'esperto di economia? Aveva le capacità tecniche per operare sugli assetti societari, sulle società da rilevare, per farle figurare come soggetti floridi, quindi con le assunzioni fittizie dei vari soggetti compiacenti e poi attivare queste richieste truffaline di finanziamento alle varie finanziarie, con falsi cud, false buste paga, eccetera. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa, usura, estorsione, falsità ideologica e sostituzione di persona. Il meccanismo che avevano messo a punto era molto raffinato, acquisire società inattive mettendo a posto i documenti ufficiali, renderle floride, aumentandone il capitale in maniera da apparire solvibili agli occhi degli istituti di credito e poi assumere fittiziamente dei dipendenti, per lo più tossicodipendenti o piccoli pregiudicati, per far loro chiedere credito al consumo con la cessione del quinto dello stipendio, che si aggirava mediamente sui 2.500 euro. Successivamente alle prime rate pagate, o il dipendente veniva licenziato oppure non pagava più, innescando il recupero dei crediti senza far scattare la denuncia per truffa. E' così che sono riuscite ad ottenere circa 600.000 euro in poco più di un anno, operando su due società, la RZ Elettronica e la Sapori del Fucino. I soldi poi venivano utilizzati anche per mantenere attivo il giro d'usura della famiglia Rom, ed è proprio da qui che è partita l'indagine dei carabinieri di Sulmona, che inizialmente avevano scoperto una quarantina di imprenditori di tutta la regione, taglieggiati con interessi anche superiori al 50% al mese. In tutto, un giro che solo nel periodo delle indagini, partite a fine 2014 dalla denuncia di un commerciante sulmonese, ha fruttato circa 500.000 euro. Ci sono imprenditori che avevano difficoltà, e anche questo, la difficoltà del territorio, un aspetto importante di queste indagini? Beh, sì, questo è evidente. Un territorio che comunque ha in sofferenza economica, che determina per questi soggetti spesso una difficoltà di accesso alle linee legali del credito, e quindi spesso sono vittime di questi soggetti che operano in maniera professionale, sostanzialmente sul prestito usurario, approfittando appunto delle condizioni di difficoltà economica e di accesso conseguenziale al credito di questi soggetti. Prima campanella oggi per tanti studenti aquilani. In Abruzzo in totale sono 176.000 quelli che torneranno in aula tra oggi e nei prossimi giorni. In molti casi a farla da padrone sono i timori per la sicurezza degli edifici scolastici, non tanto all'Aquila, dove per la maggior parte gli studenti sono ancora collocati nei moduli provvisori. Sul totale degli studenti, gli iscritti sono 175.797, 52.428 nella provincia di Chieti, 45.813 in quella di Pescara, 40.425 nella provincia di Teramo e infine 37.131 nella provincia dell'Aquila. L'anno scolastico 2016-2017 apre con 197 istituzioni scolastiche, 10 delle quali sottodimensionate, cioè con meno di 600 iscritti, 1.270 complessivamente plessi scolastici sparsi sul territorio. Per quest'anno sono stati messi in ruolo 20 dirigenti scolastici, 14 donne e 6 uomini fra i 40 e i 50 anni. Difficoltà per effetto della legge sulla buona scuola ci sono invece per l'emmissione in ruolo dei docenti, tanto che gli uffici del MIUR hanno dovuto lavorare tutta l'estate. Le operazioni però dovrebbero concludersi a breve. Le scuole, secondo il calendario, chiuderanno il 7 giugno del 2017. Con l'autonomia scolastico ovviamente c'è chi ha deciso di anticipare e chi posticipare la riapertura. Le vacanze di Natale sono previste dal 24 dicembre all'8 gennaio, quelle di Pasqua dal 13 al 18 aprile. Secondo il direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, c'è una difficoltà dovuta alla preoccupazione diffusa tra le famiglie e la comunità locali circa la vulnerabilità degli edifici in caso di terremoti. Proprio per questo stanno arrivando delle ordinanze dai sindaci che posticipano l'avvio delle elezioni. Certamente c'è preoccupazione, ma non ci troviamo in una situazione di imminente pericolo, dice. Le famiglie, come è giusto che sia, vogliono che ci siano i più ampi margini di sicurezza e bisogna comunque tenere in debito conto l'esigenza che un servizio primale essenziale riparta. Per quanto riguarda l'organizzazione delle scuole, Pellecchia dice che mentre dal 1 settembre tutti i dirigenti scolastici sono al loro posto, per i docenti c'è qualche difficoltà dovuta alla ristrettezza dei tempi a disposizione. C'è stato però un grande sforzo da parte degli uffici e dunque le operazioni dovrebbero concludersi entro il 15 settembre. Problemi per il personale ATA, secondo i sindacati. I numeri non sono sufficienti, secondo loro, a garantire il funzionamento ordinario. In Abruzzo ci sono infatti 1.270 plessi scolastici circa, a fronte di 3.000 abbidelli. La legge sulla buona scuola ha creato una confusione per molti. C'è affanno per le nomine e non è stato recuperato nulla sugli organici, tuonano i sindacati. Il dramma del lavoro che non c'è fa un'altra vittima all'Aquila. Questa volta si tratta di un uomo di 38 anni, padre di due figli piccoli, che avrebbe deciso di togliersi la vita perché preoccupato nel non riuscire a far vivere degnamente i suoi piccoli. L'uomo di 38 anni era di Essergi, paese alle falde del Gran Sasso. Secondo i carabinieri non ci sono dubbi sul suicidio. Ritrovato senza vita, l'uomo è impiccato in un albero in una zona abbastanza boscosa. L'uomo era precario da anni e il suo contratto era, a quanto pare, scadenza senza prospettive di rinnovo. Neanche la giovane moglie aveva un'occupazione stabile. A dare l'allarme sono stati i familiari stessi, preoccupati nel non vederlo rientrare a casa. I carabinieri di Essergi poi lo hanno trovato in località Spinara, aiutati anche dalla protezione civile, a pochi chilometri dal centro abitato, lungo una strada interpoderale che porta al borgo di San Pietro alla Ienca, sul Gran Sasso. I militari hanno dapprima trovato l'auto e poi, non lontano, il corpo del giovane ormai senza vita. La procura della Repubblica dell'Aquila, come da prassi, ha aperto un'inchiesta, anche se sul suicidio non ci sono dubbi. Riperimetrazione della zona rossa del centro storico dell'Aquila, un argomento che fa discutere e che crea qualche frizione anche tra maggioranza e opposizione. Se ne è parlato questa mattina a Villa Gioia, in Commissione Garanzia e Controllo. Il presidente Raffaele Daniele chiede all'amministrazione se il centro è sicuro e soprattutto, visto anche che i puntellamenti dopo sette anni cominciano a cedere, se il Comune intende usare le prescrizioni indicate dal prefetto Alecci. Ci siamo resi conto che l'ultima ripetrazione che è stata fatta, questa del 1 settembre 2016, è più vasta di quella che era nel 2010 e che molte abitazioni che sono oggi in zona rossa sono abitazioni che invece sono tornate agibili, hanno l'agibilità e sono abitate. Allora chiediamo all'amministrazione, se il centro storico è sicuro o no, come mai nel 2016 sono zone non accessibili in più rispetto al 2010 e come i cittadini possono accedere liberamente alla loro abitazione, se per accedere alla loro abitazione devono assumersi loro la responsabilità oppure se è il Comune che deve garantire l'accesso ai cittadini alla loro abitazione che oggi è diventata zona rossa. Poi il prefetto aveva fatto una riunione dove aveva chiesto che venissero messe delle transenne puntellate al terreno con dei cancelli. Chiediamo anche qui se l'amministrazione ha intenzione di seguire le indicazioni del prefetto oppure no. Per la maggioranza bene ha fatto il Comune ad aumentare il perimetro della zona rossa che sia più ampia a 7 anni dal sisma non significa nulla. Alcune zone sono cantiere, per il capogruppo del PD Stefano Palumbo anzi ogni mese la zona rossa dovrebbe essere riaggiornata. Per motivi diversi, ad esempio per la presenza dei lavori legati sotto servizio ad altro quella zona si rende meno sicura, quindi l'invito che bisognerebbe rivolgere all'amministrazione di fare è di aggiornare questa cartografia con frequenza quanto meno mensile. Esordio Casalingo per il città di Foligno di Tommasso Guazzolini contro l'Aquila di Morgia in panchina siede a dirigere la corazzata abruzzese Coppola Michele il Foligno gioca con la maglia ufficiale verticale blu e bianca. Esordio al Santo Pietro i 9 acquisti Niedeloschi, Filippo e Silvio Mercai dirige la gara Gian Piero Mier di Nola il primo giro di palla lo dà l'Aquila da destra verso sinistra al quattordicesimo Mercai con pallonetto serve fondi uscita tempestiva di Salvetti che sventa il pericolo. Foligno più vivace in questi minuti del primo tempo con Mercai e Urbanelli che mettono in difficoltà la retroguardia abruzzese al ventisesimo sui sviluppi di angolo tutto solo in aria Gagliardini di testa non trova la rete mandando clamorosamente fuori al trentaquattresimo la vista serve russo Scodella al centro Piccheri esce e blocca al quarantesimo Mercai serve calzola dal fondo mette al centro Urbanelli sceglie bene il tempo ma non trova la forza Salvetti blocca al quarantacinquesimo il direttore di gara decreta la fine del primo tempo sul punteggio di 0-0 con il Foligno più vivace rispetto all'Aquila al secondo minuto della ripresa sull'apte di sinistra Piccheri mette al centro deve uscire Salvetti per sventare il pericolo Foligno sembra essere partito colpiglio giusto schiacciando l'Aquila nello sproprio a metà campo al quattordicesimo doppio cambio per l'Aquila esce Arboleta e Bonavissuto entra Deo Juvis e Ganci al quattordicesimo Giambi direttamente su calcio piazzato ci prova Sfera che termina poco fuori al diciottesimo Urbanelli si accentra dal limite scarica in porta Salvetti dice no al diciannomesimo Guazzolini fa il doppio cambio mette forze fresche esce Urbanelli e Nedoloschi entrano Filippo Fondi e Orchiuto al diciannomesimo Foligno in vantaggio Fondi serve Mercai sposta la palla apre il piatto e mette nell'angolo un minuto più tardi al trentesimo Mercai scatenato scarica un destro da venti metri Sfera che si stampa sul palo al trentasesimo l'Aquila soffresce di un calcio di rigore va la battuta Minkleri che spiazza Piccheri per il momentaneo pareggio al quarantatresimo Foligno in dieci per espulsione diretta di Cazzola per calcio pericoloso e nel quarto minuto di recupero l'Aquila in vantaggio in un dubbio fuori gioco tutto solo Minkleri in sacca per gol vittoria gol contestatissimo da parte dei giocatori e tifosi Foligno beffato nel finale contestata la terna arbitrale Dopo la vittoria nella gara d'esordio sul campo del Sansepolcro i biancoverdi si confermano anche nella prima stagionale casalinga del torneo al Dei Marsi dove arriva un successo molto sofferto su un Flaminia Civita Castellana Maidomo all'attirare delle somme il pari avrebbe forse rispecchiato meglio 90 minuti di gara fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto offrendo uno spettacolo assai gradevole per la squadra di Pino Tortora sono tre punti d'oro che valgono il primato anche se dopo soli 180 minuti di campionato i ragazzi del Presidente Paris sono al completo eccezione fatta per gli ultimi arrivati Rizzi e Deramo nessun problema di formazione anche per i laziali del tecnico Pierluigi Vigna si comincia al settimo con una super occasione per l'Avezzano e con Aquino che si divora l'1-0 mandando la sfera di poco a lato la risposta ospite non si fa attendere arriva con Cardillo che conclude da buona posizione mancando di pochissimo il bersaglio grosso la gara giocata a buon ritmo vede Abruzzesi e laziali affrontarsi a viso aperto la squadra di Tortora si rivede al dodicesimo con un tiro a lato di Padovani i biancoverdi cercano di far valere il fattore campo ma al tredicesimo c'è un altro brivido in area locale ancora con Cardillo che davanti a Lewandowski anziché provare la conclusione cerca un improbabile cross facendo svanire così l'azione al diciassettesimo Leto cade in area ospite ma testa di Avellino lo ammonisce per simulazione il match si mantiene equilibrato con le due difese che prendono le misure dei rispettivi attacchi e così bisogna attendere il trentunesimo per vedere un tiro senza grandi pretese per gli ospiti con Rodriguez tre minuti prima la punizione marsicana di Sassarini che mette però sopra la traversa si arriva così al finale di primo tempo con al trentacinquesimo un tiro centrale di Cardillo che appena dentro l'area avezzanese non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione al trentanovesimo Besana non al meglio viene sostituito da Lombardo e subito dopo arriva il vantaggio locale con un doppio atterramento in area del Flaminia con il direttore di gara che questa volta non ha dubbi ed indica il dischetto e con Leto che supera dagli 11 metri Cosini per l'1-0 dei Biancoverdi che così possono rientrare negli spogliatoi con il vantaggio di misura nella ripresa si ricomincia con gli ospiti all'attacco al settimo Cardillo sempre lui manca la mira di poco al quattordicesimo sembra fatta per il pariraziale ma di ventura solo in area spara incredibilmente alto la gara regala però emozione raffica visto che al ventunesimo Aquino se ne va in contropiede scaricando poi addosso a Cosimi e dall'altra parte un minuto dopo invece l'onnipresente Cardillo ad alzare ancora di testa sopra la traversa lo stesso attaccante del Flaminia ci riprova anche al ventottesimo mancando ancora la mira la squadra di Tortora rischia ma regge fino al novantaquattresimo e festeggia la seconda vittoria della stagione la squadra di Tortora la squadra di Tortora